Cari amici normoragionanti, buongiorno, mi trovo qui sull'altipiano di Asiago, reduce da una bellissima conferenza di ieri, piena di persone che hanno seguito l'analisi della Magna Questio e la presentazione di Codice Razzinger. Questo pomeriggio sarò a Schio, provincia di Vicenza, alle ore 15, al Palazzo Toal di Capra. Ho anche invitato Don Enrico Roncaglia e Mirko Agerde, con i quali avevo avuto a che fare in tempi recenti, non so se interverranno, però mi sembrava corretto invitarli, dato che sono venuto a trovarli a casa loro. A Schio tra l'altro c'è una realtà religiosa molto viva e quindi mi sembrava interessante sottoporre loro questo invito. Oggi parleremo, devo dire un po' malvolentieri, di questa puntata di Visione TV condotta da Francesco Toscano, intitolata Monsignor Nicola Bux. Alcune ricostruzioni fantasiose su Benedetto XVI nascondono motivazioni venali. Ora perché dico malvolentieri? Perché questa trasmissione francamente mi ha fatto un po' di tristezza. Mi ha fatto tristezza vedere che il 90% dei commenti erano scandalizzati, sdegnati verso il conduttore e anche purtroppo verso Monsignor Bux, con il quale io avevo intrattenuto insomma dei colloqui personali e mi ha dispiaciuto anche per Monsignor Bux perché un insigne teologo come lui finire a parlare di codici da Vinci, di romanzi alla Dan Brown, di chiacchiere, di teorie fantasiose, ecco anche i comuni spettatori hanno notato che non c'è stata alcuna contestazione nel merito della questione. Io mi ricordo che un paio di anni fa venne contattato da Monsignor Nicola Bux che sulle prime sembrava molto interessato alla mia indagine. Poi a un certo punto ha cambiato radicalmente approccio e con lui non è stato più possibile intrattenere una conversazione su base dialettica, logica. Non c'è stato più verso di trovare un confronto su base razionale. Ma la puntata già parte con un qualcosa di assurdo perché a parte il fatto che parlano di codice Ratzinger, codice da Vinci però si guardano bene dal fare i nomi di Andrea Sciocci, ma di che cosa state parlando, scusate? Cioè se dovete fare i vaghi, deve rimanere tutto così, nell'indistinto, nel dico non dico, non parlate poi di codice Ratzinger, del mio libro, della sede impedita, eccetera, perché è un controsenso, no? Toscano dice, ecco, ascoltiamo la sua introduzione. Monsignore vorrei partire con lei parlando di una questione che è deflagrata negli ultimi giorni in rete, anche grazie al movimentismo, come dire, al protagonismo di personalità molto critiche nei confronti dell'attuale inquilino del Vaticano Bergoglio, che però, insomma, lo dico io, responsabilità mia, per certi aspetti sembrano più inquietanti persino delle figure che criticano, ecco, ci sono, conoscerà insomma, dei personaggi che portano avanti la teoria della cosiddetta sede impedita, cioè fanno un ragionamento, come dire, in punta di diritto canonico, spiegando che in realtà l'elezione di questo Papa non sarebbe legittima sul piano formale, quindi anziché contestare il merito, la deviazione rispetto alla dottrina di cui Bergoglio si è fatto protagonista, vogliono spostare l'attenzione su questioni procedurali, ecco, tra virgolette, insomma, molto più umane, che magari porterebbero la discussione su un terreno non proprio utile. Per lo meno questa è la mia impressione. E proprio sulla base di questa premessa, magari se la prendono con figure come Monsignor Viganò, accusato addirittura di essere, come dire, sotterraneamente d'accordo con il mondo dei Bergogliani. Ecco, mi sembra un discorso abbastanza lunare. Cioè, noi saremo quelli che invece di contestare nel merito l'eresia di Bergoglio, vogliono distrarre l'attenzione, spostare su questioni procedurali del tutto così, campate per aria che non affrontano la questione. Vi sembrava un ragionamento sensato? Cioè, noi stiamo dicendo, guardate che Bergoglio è eretico, è apostato, dice, distrugge la Chiesa, dice tutto quello che dice, fa tutto quello che fa, perché non è il Papa. Quindi, se volete evitare che continui a distruggere la Chiesa, dovete impugnare la declarazione di Papa Benedetto per toglierlo di mezzo. E invece, no, noi, capite, siamo quelli che distraggono l'attenzione dalle cose che contano, cioè l'eresia di Bergoglio. Ma, va bene. Ma ascoltiamo, Monsignor Bux, che cosa ci dice. E quindi è comprensibile che si sia poi creato questa, è vero, questa polemica, questo dibattito. E tuttavia, tuttavia, per quanto mi consta, anche per il rapporto diretto che ho avuto con il Papa Benedetto, non c'è nulla di tutta la dietrologia che è stata un po' attrezzata. Il Papa semplicemente si è dimesso perché non aveva le energie più per proseguire e aveva già constatato questo dopo il ritorno dal viaggio a Cuba nel 2012 e ne aveva parlato anche col suo segretario, il quale tra l'altro ha descritto le cose nel libro pubblicato, come dire, postumo, dopo la morte di Papa Benedetto, a gennaio, mi pare. e semplicemente è lì tutto. Tra l'altro, come ho anche scritto nella prefazione al libro di Federico Michielan, uno studioso veneziano intitolato Non era più lui, Io avevo incontrato il Papa Benedetto nel luglio del 2014, quindi un anno dopo la rinuncia e abbiamo avuto modo nel colloquio di parlare, quindi ne ho, come dire, diretta conoscenza. Ecco, Monsignor Bux ha incontrato Papa Benedetto nel 2014 e ha avuto modo di parlare con lui e chissà che cosa gli ha detto. Chissà cosa gli ha detto, magari gli avrei detto No, no, stia tranquillo, Monsignore, io ho validamente rinunciato al mio ministero. Ovviamente sapete a cosa ci riferiamo, no? Agli avrei detto, ho rinunciato validamente al mio ministero, ma causa sede impedita. La cosa interessante è che Monsignor Bux dice da anni di possedere una lettera che gli ha inviato Papa Benedetto, nella quale rispondeva a dei quesiti posti dal Monsignore sulle dimissioni e Papa Benedetto gli avrebbe confermato che è tutto a posto, tutto in ordine. Benissimo! Allora, Monsignor Bux, è già la terza volta che io invito, la invito a rendere pubblica questa lettera. Perché non lo fa? Ci sveli questo documento in cui Papa Benedetto rivela che lui era abdicatario, che Papa Francesco è il Papa. Vediamolo questo documento, perché non lo tira fuori? Eh, scusi, se no, diciamo, rimaniamo nel mondo delle affermazioni campate per aria. Poi un'altra argomentazione di Monsignor Bux è questa. Nella prefazione a cui ho accennato al libro di Federico Michelan ho scritto che l'idea della rinuncia, meglio, delle dimissioni del Papa Ratzinger l'aveva già, dirì, all'indomani della elezione. Lui è stato eletto nell'aprile del 2005 e nel febbraio del 2006 faceva porre un quesito suo al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, che è un organismo vaticano, nel quale, ecco, poneva il quesito, al quale poneva il quesito circa, diciamo, le condizioni e le opportunità della rinuncia del Papa. Quindi, diciamo che non era ancora passato un anno dalla sua elezione e lui già poneva questa ipotesi, peraltro un'ipotesi che già è contemplata nel codice di diritto canonico e quindi non è, come dire, non è una cosa marziana, certo a determinate condizioni. Ecco, Papa Benedetto fin da subito aveva chiesto alle istituzioni preposte al Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi se fosse lecito che il Papa potesse rinunciare. Beh, questa domanda, in quello che io ho ricostruito, si inserisce perfettamente nel quadro di questo sistema anti-usurpazione preparato fin dal 1983, e questo è indubitabile perché lo dice lo stesso Benedetto XVI in ultime conversazioni, che lui ricevette mano libera da Giovanni Paolo II per rifare il diritto canonico e dotarlo di nuove strutture e norme giuridiche per combinare grosse punizioni a chi non è specificato. È oggettivo che, mentre nel canone 221, quello del 1917, si diceva si continga a tutrumanus pontifex renunziet, senza citare il munus, in quello dell'83, Ratzinger fa inserire la rinuncia al munus, che poi non c'è stata. Allora, le fantasiose teorie di Andrea Cionci di Dan Brown si riassumono in questi quattro passaggi. Papa Benedetto, nell'83, fa inserire la rinuncia al munus nel diritto canonico. Nell'88, nell'enciclica Pastor Bonus, viene ribadito in modo ossessivo la differenza fra munus e ministerium. Nel 96, Ratzinger scrive per voetiva la Universi Dominici Gregis, dove all'articolo 77 si ribadisce la necessità di rinunciare che la sede per rinuncia del pontefice resti vacante a norma del canone 332.2, dove si richiede la rinuncia al munus. E poi nel 2013, ops, mi sono sbagliato, sì, sapete perché sono un po' modernista, ho fatto confusione, avevo bevuto un grappino di troppo, ho scritto munus al posto di ministerium. Allora, Monsignor Bux, la prego, non accetti questi inviti da youtuber improvvisati, perché poi si espone a gettare discredito sulla propria onorata carriera. Tra l'altro, lei stesso dice che nel diritto canonico è contemplata l'abdicazione del Papa. al canone 332.2 Si continga tut romanus pontifex muneri suo rinunzi et si deve rinunciare al munus. Perché Papa Benedetto già nel 2006 aveva fatto porre questo quesito al pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, i casi possono essere due. O voleva essere sicuro al 100% delle normative del diritto canonico per predisporre in anticipo e bene questo congegno antisurpazione, che era pronto dall'83, ripetiamo, era stato già preparato dall'83, oppure lui ha voluto cominciare a darvi l'input, in modo che le sue dimissioni potessero non piovere dal nulla. Ah, vedete, sì, Papa Benedetto già nel 2006 parlava di rinuncio al pontificato, ecco, oggi finalmente ha abdicato e siamo tutti contenti, eccetera. Papa Benedetto sa che l'ambiente vaticano è un servaio, dove qualsiasi cosa si dice o si fa circola come argento vivo, quindi lui probabilmente ha dato questo input iniziale, in modo che le sue dimissioni potessero essere credute all'inizio come un'abdicazione. Ripeto, tutto il senso di questo congegno antisurpazione sta nel fatto che lui induce in tentazione, mette alla prova, e qui non mi dite che è ingannatore, perché sennò cominciamo a mettere in discussione il Padre nostro, induce in tentazione, mette alla prova la Chiesa, i suoi nemici, già avendo dato loro un'imbeccata su questa possibilità di rinuncia, ma sì, si fa, non si fa, si può fare, non si può fare, eccetera, eccetera, e dichiaro di rinunciare al Ministero. Ministero che, guarda caso, contempla in italiano sia il munus che il ministerio. Ora, solo il fatto che sia stata utilizzata la parola ministero per tradurre sia il munus, che ha una parola per essere definito ufficio, ufficio, perché Papa Benedetto utilizza la parola ministero creando questa ambiguità? Esattamente per la restrizione mentale larga, perché non voleva che i suoi nemici, o i suoi falsi amici, capissero che lui non stava abdicando regolarmente, rinunciando al munus come previsto dal diritto canonico al canone 3.3.2.2. Quindi lui vi ha dato queste imbeccate, il piano era pronto, prontissimo da tempo, addirittura all'inizio il suo pontificato rimuove la tiara dallo stemma pontificio proprio per non essere costretto a rimuoverla dopo il suo defilamento in sede impedita, e infatti risponde Picchi al cardinale di Montezemolo che voleva cambiare il suo stemma, e quel suo stemma se lo porta nella tomba. Ecco, io le faccio una domanda, anzi qualche domanda. E' vero o non è vero che solo in sede impedita il Papa trattiene il munus, la sua nomina, il suo titolo, la sua investitura di origine divina, e perde il potere di fare il Papa perché è prigioniero, esiliato, confinato, non libero di esprimersi? E' vero o non è vero? Così come è vero o non è vero che Papa Benedetto è rimasto col nome pontificale, la veste bianca, impartendo la sua benedizione apostolica, è rimasto anche in Vaticano. Allora, un Papa impedito, resta col nome pontificale, resta con la veste bianca, continua a poter impartire la sua benedizione apostolica? Sì, tanto che Pio VII, la Palazzo Lovera a Cuneo, nelle mani di Napoleone, impartì la sua benedizione apostolica, e questo è rimasto scolpito nel marmo. L'ultimo Papa impedito ha potuto continuare a impartire la benedizione apostolica, conservando il nome Pio VII e i suoi abiti pontificali. Tra l'altro, lei conosceva l'uomo Ratzinger, diceva che era una persona mite, una persona corretta, una persona adamantina, pulita. Allora, le sembra possibile che se lui avesse voluto veramente abdicare, sarebbe rimasto lì in Vaticano a rompere le uova nel paniero al suo successore, vestito di bianco, col nome pontificale, eccetera. Poi le faccio un'altra domanda. Io la declarazio l'ho fatta leggere e tradurre correttamente da tre professori, il professor Mosetti Casaretto, medio latinista dell'Università di Torino, il filologo Gian Matteo Corrias, il professor Rodolfo Funari, massimo traduttore da Sallustio. Voi avete potuto contestare la traduzione della declarazio che io ho prodotto? No. No. Quindi, per favore, risparmiatevi questo massacro. Ecco, mi viene in mente sempre quella scena di uomini contro in cui i soldati italiani vanno all'attacco in modo disordinato, i mitraglieri austriaci li massacrano, a un certo punto anche i mitraglieri dicono «Basta, soldato italiano, non farti uccidere così, torna indietro», eccetera. Ecco, questo mi viene in mente, questa scena, ogni volta che il mondo Unacum cerca di contestare 700 articoli, 450 podcast, un volume di 340 pagine, uno studio suffragato da decine di professionisti, specialisti, professori universitari, dicendo «Ah, beh, è il romanzo di Adam Brown, sono fantasie, Cionci ci vuole fare i soldi», eccetera. Ecco, tra l'altro, cosa ancora più triste, Monsignor Bux, non intervenga in queste trasmissioni, la prego, perché poi si mette in difficoltà da solo. Sentite che cosa ci dice il Monsignore. Una delle frasi che Papa Benedetto mi disse quando lo incontrai nel 2014 fu proprio questa «La Chiesa è nelle mani del Signore ed è Lui che provvede, ci dobbiamo fidare di Lui, io sono tranquillo». Ecco, Monsignore, non si è chiesto perché Papa Benedetto non le ha confidato, ma no, stia tranquillo, «La Chiesa è nelle mani del buon Papa Francesco e io sono tranquillo». «La Chiesa è nelle mani del Signore». Perché è nelle mani del Signore e non nelle mani del Papa? Perché il Papa è impedito, quindi la Chiesa è nelle mani del Signore. Papa Benedetto ha fatto esattamente quello che io ho ricostruito in tre anni di inchiesta, cioè si è offerto liberamente alla sua detronizzazione, alla sua sede impedita, per innescare due processi, per portare a maturazione il grano e la zizzania contemporaneamente prima della loro separazione. Questa separazione avviene quando appunto il grano e la zizzania sono pronti, quando la Chiesa agnostica che si nasconde nella Chiesa di Cristo, come da Ticonio, quell'impostura che perseguita la Chiesa nel suo cammino sulla Terra, come dice l'articolo 675 del Catechismo, viene alla luce, si manifesta. Ecco, Monsignor Viganò e i suoi sodali non fanno altro che constatare i sintomi senza guardare alle cause. Cioè Bergoglio sta distruggendo la Chiesa proprio perché è espressione di quella Chiesa agnostica e massonica che dai tempi del Concilio è entrata a spallate, entrata come il fumo di Satana in Chiesa, come diceva Paolo VI. Vabbè, adesso sarebbe troppo lungo affrontare il discorso. Quindi, caro Monsignor Bux, lei ci ha rivelato involontariamente l'ennesimo messaggio in restrizione mentale larga. Ecco, lei parla di fantasie. Questo è molto grave. È molto grave per un teologo come lei. Papa Benedetto si esprimeva in restrizione mentale larga, concetto della teologia morale. E lei dovrebbe saperlo. Quando dice il Papa è uno solo e non spiega mai quale è dei due, quando dice, quando fa dire a Monsignor Genswain se non credete, la risposta è nel libro di Geremia o di Isaia. Non vi dico in quale capitolo, in quale versetto, ma lì è la risposta. Se lo ricorda di cosa tratta il libro di Geremia, parla di un profeta impedito, chiuso in una cisterna, che comunica all'esterno tramite il suo segretario Baruch. Nel libro di Geremia si legge esplicitamente Io sono impedito. L'unica formula del genere in tutta la Bibbia, Io sono impedito, si trova nel libro di Geremia. È un caso. Ma certo, è un caso, è casuale. È una fantasia, il romanzo all'Aden Brown di Cionci che si è fatto la villa al mare guadagnando pochi centesimi su ogni copia del suo libro venduto. Poi il libro di Isaia, se lo ricorda di cosa parla il libro di Isaia? Parla di un prigioniero che viene liberato e mette in prigione i suoi persecutori. Ma è tutto casuale. È tutto casuale. Così come è casuale quando Benedetto XVI risponde a Sevald. Lei potrebbe essere l'ultimo papa per come lo conosciamo? Tutto può essere. Ma come tutto può essere? Scusi, dopo di lei non c'è pace a papa Francesco? No, tutto può essere. Così come è casuale quando lui dice alla signora tramite segreteria di Stato il papa emerito ha ricevuto la lettera con le espressioni di filiale affetto. Commosso per la sua devozione il sommo pontefice la ringrazia. Anche quello è casuale. È tutto casuale. Va bene. Però Don Bux, lei doveva conoscere questa faccenda della restrizione mentale larga. Questa è una grossa pecca per un teologo e il fatto che Papa Benedetto di solito parlasse in modo così chiaro e adamantino e dal 28 febbraio 2013 abbia cominciato a parlare in modo così sibillino doveva farle scattare immediatamente l'idea che lui stesse utilizzando questo concetto della teologia morale. perché lei è un teologo io non lo sono ma l'ho scoperta io questa cosa. E questo purtroppo rimane scritto nella storia. La scoperta all'idraulico lo scemo del villaggio il ragazzo che però è più anziano di Francesco Toscano di due anni Francesco Toscano che ricordo continua a parlare con sufficienza del sottoscritto ma questi che si svegliano la mattina con queste curiose teorie cioè Francesco Toscano è l'unico della controinformazione che ha pagato che ha pagato per 4 o 5 puntate del sottoscritto sulla sede impedita salvo togliere dopo 1 o 2 ore la quinta puntata forse chissà perché magari ha ricevuto una telefonatina da Monsignor Viganò non lo sappiamo non possiamo fare il processo alle intenzioni. Ecco e continua Monsignor Bux dicendo che che il sottoscritto ha ricalcato il codice da Vinci in una sorta di giallo che è una pura contraffazione il codice da Vinci con intenzioni molto venali. è una bella saga diciamo così probabilmente più utile a chi l'ha messa su una pura diciamo sappiamo bene contraffazione e magari anche con intenzioni diciamo molto molto venali ecco caro Don Bux lei qui purtroppo commette peccato glielo dico in termini tecnici questo si chiama giudizio temerario mormorazione maldicenza lei mi sta accusando di aver compiuto il mio lavoro triennale per farci i soldi ora questo potrebbe essere possibile per carità ci sono tanti speculatori che mettono in giro delle falsità per farci i soldi però deve essere argomentato questa cosa lei la deve supportare con delle argomentazioni per esempio io affermo che Monsignor Viganò è un gatekeeper sulla base di cosa? sulla base del fatto che negli ultimi tre anni gli ho mandato centinaia di articoli lettere pubbliche lettere private l'ho implorato mi sono messo in ginocchio eccellenza la supplico per favore parliamo di questa cosa la sede impedita lui mi ha bannato da twitter non mi ha mai risposto non mi ha mai neanche ringraziato mi sponsorizza sponsorizza libri che vanno contro la questione della sede impedita poi fa finta di non conoscere la questione demanda ai Francesco Toscano l'ammazzolatura dei suoi nemici è chiaro che io su base logica documentale dopo tre anni in cui mi sono messo a completa disposizione Monsignor Viganò l'ho implorato in ginocchio di prendere atto di questa questione è chiaro che io posso affermare che lui è un gatekeeper ma il fatto che lei abbia dichiarato che io ho prodotto questa inchiesta per motivi penali e naturalmente il buon Toscano ci ha fatto pure un titolone è una illazione gratuita e destituita di fondamento e sa perché? perché io ho scritto i miei 700 articoli gratuitamente perché non sono pagato sul blog di Libero perché è un blog quindi non è remunerato ho messo a disposizione l'intera inchiesta in 60 capitoli su BioBlu e io stesso non ho voluto essere pagato per questi articoli proprio per mettere a disposizione di tutti la questione io ho prodotto tre documentari che ho messo gratuitamente a disposizione di tutte le testate che volessero utilizzarle ho aperto un canale YouTube Andrea Cionci Codice Ratzinger dove gratuitamente le persone si possono documentare ho fatto 77 conferenze in cui c'è l'ingresso a offerta libera quindi uno può entrare anche donando un centesimo certo il libro purtroppo non è che ve lo potevo anche pagare io e regalare per Natale con un torrone però è cosa pubblica che io ho firmato la percentuale di diritti più bassa a norma di legge proprio per tenere più basso possibile il prezzo di copertina quindi lei sulla base di cosa dice che io ho portato avanti questo lavoro per motivi penali quando ho messo a disposizione gratis di tutti tale questione e quando i guadagni sul libro sono il minimo a norma di legge quindi lei sta cadendo in peccato mortale l'ottavo comandamento non dire falsa testimonianza nelle sue declinazioni probabilmente di giudizio temerario mormorazione e maldicenza perché lei potrebbe affermare che io sto producendo questa inchiesta per motivi venali se portasse delle prove lei le prove non ne ha è smentito dalla realtà quindi lei è un peccato mortale e penso che dovrebbe confessarsi di questa accusa ingiusta fatta tra l'altro a uno che sta difendendo colui che oltre a essere suo amico era anche il vicario di Gesù Cristo allora lei non è d'accordo sulla sede impedita benissimo mi deve rispondere nel merito deve rispondere sulle questioni canoniche perché il fatto che Papa Benedetto le abbia detto si si no è tutto a posto eccetera rientra perfettamente nel disegno di Papa Benedetto di non voler manifestare subito la sua sede impedita e il fatto stesso di trovarsi in sede impedita lo rende impossibilitato a comunicare liberamente quindi se lei lo va a trovare dopo il 2013 in cui lui era già in sede impedita il fatto che lui non le abbia potuto dire guardi sono prigioniero sono in sede impedita sono confinato esiliato ho perso il mio potere pratico ma ho ottenuto il munus deriva proprio dal fatto che era in sede impedita tra l'altro nel disegno teologico ed escatologico del suo sacrificio egli stesso non voleva e non doveva rivelare immediatamente questa cosa probabilmente lo avrà fatto secondo la restrizione mentale larga in quella lettera che le ha mandato e che però lei non vuole pubblicare e allora di che cosa parliamo Monsignor Books di che cosa stiamo parlando ecco infatti la assoluta inconsistenza delle vostre argomentazioni è stata notata da tutti io invito i miei ascoltatori a vedersi per intero la puntata di Visione TV poi ad andare sul mio canale Andrea Cionci codice Ratzinger e a visionare nello stesso lasso di tempo dura meno di mezz'ora i tre documentari di Essire Intelligenti Pauca e Red dell'Azion e poi fatevi conti voi vedete voi se è più credibile Monsignor Books che dice ah ma no ma Benedetto non avrebbe mai fatto una cosa del genere e poi confrontate con i documenti che io ho portato tra l'altro Monsignor Books cita anche in libro nient'altro che la verità smentito da Gotti Tedeschi da Luciano Canfora Tosatti stesso dice questo libro sembra essere stato scritto per dei paradigmi che noi non conosciamo un libro che è stato diffuso in pdf a spaglio prima della sua uscita in cartaceo un libro che lo stesso Monsignor Genswein voleva ritirare quello stesso Monsignor Genswein che oggi ci dice beh abbiamo 265 papi è chiaro che sono tutti uno diverso dall'altro peccato che dovrebbero essere 266 ma vedete cari amici a me sembra anche inutile portare avanti un discorso del genere perché tanto non c'è una dialettica non c'è un confronto perché tu dici per esempio Monsignor Books perché Papa Benedetto scrive sono il primo papa a essersi dimesso dopo mille anni e anche nel primo millennio ciò ha costituito un'eccezione sono il primo papa a essersi dimesso dopo mille anni ma l'unico ad averlo fatto nel pieno possesso dei propri poteri ecco io questa cosa l'ho ricostruita Benedetto VIII lo scontro con antipapa Gregorio VI Benedetto VIII che rinuncia al ministerium per avere il ministerium canonico da parte dell'imperatore degli ottoni eccetera eccetera intanto cominciamo con il livello base 2013 meno 1415 ultimo abdicatario fa 598 perché Papa Benedetto dice sono il primo papa a essersi dimesso dopo mille anni e poi e poi ecco lei cita la questione della veste bianca e dice Papa Benedetto ha detto che era la cosa più pratica mantenere il nome Benedetto e la veste bianca e lei dà retta a quello che viene scritto nel libro dello pseudo Genswain per cui Papa Benedetto era sicuro di morire di lì a poco entro un anno e quindi beh che faccio mi compro una veste talare nera no rimango con la veste bianca in questo lei si sta associando in modo preoccupante alle affermazioni di Don Tullio Rotondo quello che continua a dire il dottor Cionce ingombedente 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 e pensa di avere ragione Don Tullio Rotondo ha avuto il coraggio di dire che siccome una talare può costare 1000-2000 euro Papa Benedetto ha scelto di mantenere la veste bianca per una questione pratica del genere cari amici lascio a voi giudicare continuate a vedere Visione TV continuate a seguire Francesco Toscano che ha un partito che vede in Monsignor Viganò il suo punto di riferimento spirituale io glielo ho detto guarda Toscano che Monsignor Viganò ti porterà a fondo e hai avuto un saggio in questi giorni nelle decine e decine di commenti sdegnati che ti sono arrivati perché? perché la posizione di Monsignor Viganò è indifendibile indifendibile l'unico caso in cui il Papa perde il ministerium e trattiene il monus è la sede impedita punto il canone 332 impone la rinuncia al monus la declaratio dice che Benedetto rinuncia al ministerium per la Universi Dominici Gregis se la rinuncia del pontefice non è avvenuta a norma del canone 332 punto 2 quella che richiede la rinuncia al monus l'elezione che ne consegue è nulla e invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito quindi Bergoglio non è il Papa quindi tutte queste questioni inutile sull'eresia di Bergoglio l'apostasia di Bergoglio eccetera eccetera vengono cassate dal fatto che lui non sia il Papa quindi dimostrare che lui non sia il Papa è la via più onesta più logica più sensata e soprattutto più documentata continuate pure a massacrarvi da soli io continuerò ad avere la visione di questi mitraglieri austriaci che alzano le mani e dicano no soldato italiano non farti mitragliare così non farti uccidere così torna indietro torna indietro voi continuate pure per la vostra strada perché adesso tutti i noti vengono al pettine cari amici tengo a ricordare i prossimi appuntamenti oggi a Schio il 14 domani a Vicenza il 15 sarò ad Abano insieme a Don Minutella e a Diego Fusaro troverete tutti i dettagli qui nella nostra nella nostra video nella nostra schermata grazie ancora per la vostra attenzione un caro saluto a Monsignor Bux e un caro saluto a Francesco Toscano un caro saluto a Monsignor Bux a Monsignor Bux a Monsignor Bux a Monsignor Bux a Monsignor Bux